Appunto, rivoluzione civile, la vostra lista sembra andare un po' meglio nei sondaggi? Con grande senso di responsabilità, dopo che abbiamo assistito a questi Volta Gabbana che per un anno intero hanno votato per 50 volte il voto di fiducia al governo Monti e dopo aver preso atto che oggi nessuno riconosce e si riconosce nei provvedimenti del governo Monti né Bersani che l'ha votato per 50 volte la fiducia, né Berlusconi suoi che l'hanno votato per 50 volte la fiducia né lo stesso Monti che si guarda allo specchio e si sfiducia da solo c'è un solo modo per cambiare questo Paese, non dare più alcuna credibilità a questa classe dirigente ma andarla a casa, non dico con i bastoni ma almeno con una rivoluzione civile attraverso il voto e per questa ragione che noi dell'opposizione, noi della società civile ci siamo uniti tutti insieme in un unico simbolo, rivoluzione civile e con un candidato, con la schiena dritta che ha dimostrato di saper resistere anche ad ogni pressione quando si è trattato di indagare sulla trattativa fra Stato e mafia il candidato è Antonio Ingroia Grazie! Grazie!